Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto tappeti Tappeto Kazak 288x205. Questi tappeti sono annodati a mano in Pakistan. Il disegno si ispira ai motivi geometrici russi e la lana viene tinta con pigmenti naturali. Sono tappeti resistenti all'usura, dai colori vivaci. Per ottenere la caratteristica lucentezza, vengono lavati con le pietre. Lavorazione, annodato a mano, spessore circa 6 mm, pelo, lana, ordito, cotone. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.